a meri a radio presenta il pianoforte buonasera e benvenuti a il pianoforte questa sera in programma ascolteremo il concerto numero 5 per pianoforte orchestra in mi bemolle maggiore opera 73 imperatore di ludwig van beethoven sicuramente è il più famoso e il più popolare di tutti i concerti per pianoforte orchestra della nostra letteratura sinfonica forse perché come vedremo anticipa per qualche aspetto i modi del concerto romantico tuttavia ci propone in termini essenziali i caratteri noti e comunemente preferiti dell'arte beethoveniana cioè i caratteri del cosiddetto secondo stile lo stile per intenderci della terza sinfonia della quinta o della sonata opera 57 l'appassionata questo concerto nacque piuttosto speditamente durante il 1809 fu stampato ai primi del 1811 con una dedica all'arciduca rodolfo d'asburgo probabilmente fu presentato la prima volta il 28 novembre 1811 all'ipsia nella settima serata della stagione al gewandhaus il pianista era friedrich schneider e direttore christian schultz nello stesso 1811 e poi ancora negli anni successivi il concerto fu eseguito al pianoforte da carl cerni e poi da solisti oggi magari meno noti sempre suscitando una forte impressione per la grandiosità e l'originalità della sua forma il titolo di imperatore ormai accompagna stabilmente l'opera 73 non è invece originale e sembra sia stato lanciato in circolazione dal pianista editore e compositore joan baptist cramer naturalmente è un epiteto appropriato e può essere messo in relazione con la contemporanea occupazione di vienna da parte dei francesi di napoleone allora imperatore oppure più generalmente per alcune analogie con la sinfonia eroica e la propensione alla costruzione grandiosa e solenne noi questa sera lo ascolteremo nei suoi tre movimenti allegro adagio un poco mosso rondò allegro da farcelo ascoltare e al pianoforte bruce liu accompagnato dall'orchestra sinfonica nazionale della rai diretti da giuseppe mengoli non mi resta che augurarvi buon ascolto e buon proseguimento con i programmi di ameria radio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti.